Non hai paura, è buono? No, no, è buono. La gara che ho fatto, anche della squadra, non posso assolutamente lamentarmi perché siamo state unite, buona comunicazione e tutto, sul finale a me sono mancate le gambe, se sì purtroppo è caduta due volte mercoledì e vita ha fatto adesso meglio, quindi il risultato, indipendentemente dalla performance di squadra, va bene così. E ti dà fiducia per la stagione da venire? Sì, è un tassellino importante che mi dà fiducia e la settimana prossima sarò alla Vuelta con uno spirito più positivo, figurati.